Gli Stadio con il loro Miss Nostalgia Tour Teatrale 2016 in concerto al Teatro Lyric di Assidi il 19 marzo alle ore 21. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e con l'uscita del loro ultimo album, gli Stadio torneranno in Umbria per un concerto che toccherà tutti i grandi successi della carriera del gruppo. Info unbreventiattore.com